Ciao a tutti e bentornati sul canale. Nuovo video e video haul anche oggi. Ho unito un po' di haul fatti nell'ultimo periodo e quindi partiamo con gli acquisti fatti durante il mio weekend a Verona a fine gennaio. Ho trovato alcune cose ancora a saldi, sto registrando oggi che è il 17 di febbraio, ma in realtà gli acquisti sono stati fatti nell'ultimo periodo a partire da metà gennaio, quindi sono acquisti effettuati effettivamente in saldo dal 27 gennaio, che è il weekend che ho trascorso a Verona. Sono stata a Primark, sono stata a Pinky, sono stata in molti negozi a Bershka. Non perdo tempo in chiacchiere, vi faccio vedere quello che ho comprato. Alcune cose sono state già lavate, quindi sono già nel mio armadio e di conseguenza in questo momento, ora, non posso prenderle, dovrei smontare il set. Vi faccio vedere, tanto per cominciare, quello che ho ancora da lavare, tutto ciò che è ancora col cartellino e sono una felpa presa da Primark. La felpa è questa, è nera, con questa scritta Venice Beach, California al centro, West Side All Star. Mi è piaciuta sia perché ha questa scritta, perché l'idea dell'America è sempre quella del prossimo viaggio, che ovviamente non farò io nell'immediato, e poi, soprattutto per il prezzo, voi sapete che a Primark le cose non costano tanto, infatti questa qui è costata 6 euro. È la taglia 42, loro dicono Europa, anche se c'è scritto IT46. Però, sinceramente, io l'ho provata e mi va giusta di maniche, è un taglio dritto, è carina. La particolarità di questa felpa è che ha questo spacco sui lati, è semplicissima ed è calda perché all'interno è pile. Sempre da Primark, ho preso questi pantaloni, che sono elasticizzati, sono leggings praticamente, e sulla gamba sinistra, sì, sulla gamba sinistra hanno tutta una decorazione. Questa qui è una taglia 36 europea, loro dicono i tagli a 40, ed è costata 4 euro. Il prezzo originario era 8, questa era saldata al 50%, mentre la felpa non era in saldo. E questo è carino anche perché ha la fascia in vita, con l'elastica, con la scritta West Coast, tutta intorno. Questi poi vi faccio vedere anche come li abbinerò durante la DJ TEN. Non perdetevi quindi le fotografie sul mio profilo Instagram, dove vi metterò anche il mio outfit per la DJ TEN. Sempre da Primark, in promozione, c'erano queste salviettine struccanti, a soli 1,50 euro, due confezioni da 25 salviette. Era proprio attaccata. E queste sono per la pelle secca, for normal and dry skin. Salviette per il viso, per detersione profonda, per peri normali e miste. Dermatologicamente testate, 25 salviette, leggermente profumate e arricchite con vitamina E antiossidante. Detergono e purificano per aiutare a mantenere la pelle fresca e sana. E poi le istruzioni d'uso, ma penso che per utilizzare le salviettine non siano necessarie le istruzioni d'uso, visto che mi trucco da un po' e mi trucco da altrettanto tempo. Poi, sempre in tema make-up, ho ripreso, perché li avevo già acquistati in primavera, sempre da Primark, i dischetti struccanti. Questi sono quelli ovali. Ho preso due confezioni di questi a 1,01 euro e sono confezioni da 50 pezzi. Passiamo ora a quello che ho acquistato invece da Stefanel. Stefanel all'outlet, proprio oggi pomeriggio sono stata all'outlet e mi sono sorpresa nel vedere un mega cartello che diceva tutto a 5 euro. Sono entrata in curiosità, perché comunque Stefanel è un negozio che mi piace. Ho preso questa gonna, è molto lunga, è davvero molto lunga, arriva praticamente dalla vita fino ai piedi. Una taglia S e la taglia S di Stefanel in realtà è abbastanza abbondante, non è una vera e propria S. Dovrebbe essere una 40-42. Ha l'elastico in vita e ha questa trama. Sì, sembra tipo l'uncinetto, ma non è un uncinetto, è sicuramente fatta a macchina. termina con questa bordatura, quindi non si dovrebbe scucire. Questa è la parte fine della gonna e ha all'interno, perché è ovviamente molto trasparente, ha all'interno una sottogonna in cotone. Questa qui costava la bellezza di 149 euro, non sto scherzando, il prezzo è su qui, 149 euro, il prezzo outlet 104 euro, io l'ho pagata stasera 5 euro. È bellissima, perché questa con la bronzatura ovviamente ci sta benissimo, ma l'acquisto degli acquisti è questa qui. Un'altra gonna, molto lunga, è beige, molto lunga anche questa, praticamente arriva a metà polpaccio. È sempre una taglia italiana, loro dicono italiana 42, Europa 38, questa costava 119 euro, poi c'era il prezzo outlet che hanno cancellato, l'hanno messa più volte in sconto, qui ci sono altri scontrini, anche 20 euro intralego sotto, poi l'hanno messa a 9 e io stasera l'ho pagata a 5. Ha un unico difetto, che è qui sul retro, ed è questo puntino. Questo qui, che secondo me non si vedrà, perché uno è dietro, è proprio sulla parte retro. C'è la cerniera, quindi su io ci metterò un cinturone, secondo me non si vedrà, non si noterà neanche. È molto bella, è sfiancatissima. Ah, più davanti questa bacchettatura, ancora un altro capo d'abbigliamento, e stiamo parlando di una camicia presa da Bershka, non outlet, perché a Bershka non c'è. E ho preso questa camicia color ciliegia, mi piace molto, è molto primaverile e estiva, che ha questo scollo a V con questo choker, si chiamano choker, è incorporato. Sul retro ha il bottoncino e questa piccola scollatura, ed è semplicissima. La particolarità è che, essendo una canotta molto ampia nel braccio, nel sottoascellare, ha questa parte chiusa, sempre con un tessuto tinta su tinta, quindi diciamo che il reggiseno non si nota. Al massimo avrei messo io una fascia, quello sicuramente, e corta arriva più o meno sui fianchi. Questa qui è una taglia S, sì, è una taglia S, costava 12,99 e con i saldi l'ho pagata 3,99. E infine, come ultimo pezzo, l'abbigliamento sono stata da Camieu, Camieu? Come si pronuncia? Non lo so. Io trovo sempre qualcosina, e ho preso questa gonna, che è una gonna a palloncino, con questa trama e con questi puntoluce, che sono davvero simpatici. Si chiude dietro con una cerniera, è un bottoncino all'interno, e ha la fascia in vita doppia, così come se fosse una molla, un elastico. Questa è una taglia 40, Europa 36, io oramai non capisco più niente con queste taglie, e comunque Italia 40, e l'ho pagata 15. Questa era nella sezione prezzi piccoli, sì, piccoli prezzi. Era in su un'arella, con tutti i capi scontati, gli ultimi pezzi a saldo. Mentre come make-up da Kiko, sono stata da Kiko, ho visto la nuova collezione, che è molto carina, però siccome ero in fissa, e volevo per forza un tipo di rosetto che ho trovato, ho comprato quello, e ho preso il Velvet Passion Matte Lipstick, Rouge e Le Vremette, il numero 304, ed è questo qui. Assomiglia molto a quello che indosso, ma ovviamente non rende niente il faro, però l'intensità del colore non è la stessa, perché questo è un rossetto matte, effetto Velvet, mentre quello che indosso è quello di Essence, di cui vi ho fatto la recensione, che vi lascio qui. Dicevo che c'era la nuova collezione, perché ho visto che ci sono i nuovi opachi, i nuovi matte, e sono belli, interessanti anche quelli. Ho preferito prendere questo, questo è costato 4,95 euro, sì, 4,95, mentre gli altri costavano una decina di euro. E poi mi hanno fatto testare il rossetto liquido, quello no transport, e ho testato, l'ho indossato lì, tipo due ore fa, sono rientrata a casa, mi sono lavata le mani, si è asciugato in tempi brevissimi, proprio in neanche due secondi, e soprattutto non è venuto via quando mi sono lavata le mani, anche passandoci sul sapone, ho dovuto toglierlo, ho fatto il test sul dito, sulla parte interna della mano, laterale della mano, e ho dovuto togliere solo con l'acqua micellare, non andava via. Quindi effettivamente quello lì è no transfert. Infine, per chiudere questo video, vi faccio vedere quello che ho comprato da Lidl. Questi vasetti, che sembrano vasetti per, appunto, le piantine, ma in realtà non lo sono, perché sono dei pirottini dove cuocere i cupcake, i muffin, e poi ovviamente farli diventare dei cupcake. Qui c'è il muffin e qui c'è la pasta di zucchero. Sono veramente carini, sono sei pezzi, 100% silicone. Allora, la confezione dice, stampo per muffin, sei pezzi, in silicone flessibile e termoresistente, massima antiaderenza, senza bisogno di ungere, insapore e inodore, termostabile da meno 40 a 250, ah, quindi si possono mettere anche in freezer, questo non l'avevo visto, da Abilina Vastaviglia è dato per l'uso al microonde, io non c'è la microonde, va benissimo, la dimensione è di circa 7 cm x 5,9, quindi 7 cm al diametro e l'altezza è 5,9, o no? Sì, credo di sì, non lo so. No, però qui c'è scritto, sì, 7 è il diametro e l'altezza è 5,9. Questi sono sigillati, ma li apriamo. Allora, all'interno c'è un foglio per le istruzioni e poi ci sono imbustati 3 e 3 pilottini. Sono carinissimi! Sembrano proprio i vasi di creta, ecco sì, sembrano proprio dei vasetti di creta dove metterci le piantine. Sono carinissimi! Quindi li ho pagati 3,99, mentre al prezzo di 1,99 ho trovato da Lidl questa confezione, che praticamente sono questi due. In pratica sono due contenitori per yogurt e mentre nella parte superiore si possono aggiungere frutta, cereali, tutto quello che si vuole, naturalmente. Oppure si possono usare come contenitori per il cibo in generale, mettonoci frutta e verdura per quando si va al mare. Ultimo, ultimo, ultimo acquisto, ho trovato finalmente delle scarpe che cercavo da tempo, modello Dr. Martins, ma che non fossero le Dr. Martins, perché in realtà le Dr. Martins le ho provate e non mi stanno bene, non mi piace proprio come stanno i piedi, quindi non le ho prese intenzionalmente della Dr. Martins. Ho trovato questo modello, che è il modello molto simile di Tata. Questo qui ha una vestibilità più carina, mi piace di più il mio piede, visto dall'alto da come mi guardo io. e mi sono piaciute perché appunto hanno un'altezza giusta del tacco, diciamo della gomma, non è troppo alta e sono perfette da indossare, sia con un pantalone come quello che ho indosso adesso, che è a sigaretta, sia con i pantaloni quelli, diciamo, corti, quelli a tre quarti. Mi piace davvero molto. E sono scarpe marchiate Tata e le ho pagate 27 euro, tra i 27 e i 28 euro, insomma, li ho pagate davvero poco. Anche quelle erano scontate, quindi le ho inserite in questo video haul. Anche questo video termina qui, spero vi sia piaciuti gli acquisti che ho fatto. Mi raccomando, se non siete ancora iscritti al canale, iscrivetevi e seguite le indicazioni qui sotto. Spuntate anche la campanella, così non perdete i prossimi video e vedrete tutte le foto di quello che ho acquistato sul mio canale Instagram, dove posto non quotidianamente, ma quasi outfit and on. Mi piace far foto, lo sapete, quindi lì lo sfogo alla fantasia. Quando trovo una cosa che mi piace, io fotografo, sia se la sto indossando, sia che sia un oggetto, in generale quello che mi piace, io lo fotografo, e lì posto tutto quello che mi pare. Quindi se volete continuare a seguirmi, fatelo e iscrivetevi anche agli altri canali social, di cui vi lascio giù in info box tutti i link. Ciao, alla prossima, al prossimo video!